E' il momento finale della festa della Guardia di Finanza. Sono 36 fra donne e uomini che ricevono gli encomi, 9 le operazioni in cui sono stati impegnati, a consegnarli le massime autorità civili e militari della provincia di Salerno. Sono motivo d'orgoglio per l'arma e allo stesso tempo sintesi di un campo d'azione vastissimo. Sono tutte le funzioni in cui si declina la funzione di polizia economico-finanziaria. Mi piace ricordarlo, è al servizio del Paese, al servizio di tutti i cittadini. Il reato più odioso per lei? Sicuramente l'evasione fiscale, perché viola il principio costituzionale dell'articolo 53 che tutti sono tenuti a contribuire alle spese dello Stato in relazione a quella che è la propria capacità contributiva. Solo su quest'ultimo fronte 469 gli interventi che hanno fatto ritornare nelle casse dello Stato a noi cittadini 170 milioni di euro. In un Paese dove cresce il divario fra ricchi e poveri questa azione in parte è a tutela soprattutto delle fasce più deboli. Impossibile sintetizzare in poche parole tutto quello fatto in quest'anno dalle fiamme gialle, colpite come tutti dalla pandemia ma capaci, dice sempre De Luca, di rimodularsi e rispondere con efficacia nonostante l'emergenza. È emozionato il comandante provinciale che vorrebbe ringraziare ad uno ad uno tutti i suoi uomini. Un'emozione che nasce da una precisa consapevolezza. Perché sono un comandante e non sono nulla senza i miei finanziari, niente. Loro sono la ragione d'essere del mio comando. 248 anni di storia che non si fermano, nuove sfide ci sono all'orizzonte. Arriveranno miliardi di euro con i fondi del PNRR, opportunità di crescita ma anche ghiotta occasione per la malavita organizzata e non. Ne siamo consapevoli, ne siamo consapevoli e affronteremo come sempre con la nostra flessibilità operativa anche questi frangenti. Siamo consapevoli che è una sfida che noi siamo pronti ad accettare.